musica 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 ma cosa vuoi dire? allora ciao a tutti questo è diciamo il primo video di una nuova serie una serie è un gioco che è uscito da tanto sia soprattutto su computer ma anche da qualche mese grazie sulla playstation grazie soprattutto a playstation plus e ecco mi inizio molto male e niente la mia compagnia sarà Mattapanuki allora aspetta allora io ammetto ed io ammetto che ci ho già giocato no aspetta dai il compagno di Pantre Pan è gratissimo che non ho compagno infatti c'è l'altro caso ovviamente che ci ho già giocato in passato ma sinceramente mi ricordo il 50% delle osse la mia compagnia c'è Matteo Fanucchi in arte mister Fano infatti se avete mai sui canali sui canali sui canali sui canali sui canali e niente faceva lo sborone su Outlast perchè si mettono in mano c'è lo sborone c'è il guapo intanto siamo ai reggi non ci sono che da solo insomma io sbarlo c'è il guapo diceva Outlast e chissà cosa che mi fa a cattosso nulla eccetera eccetera l'hai letto metti i nuovi dati i nuovi dati salvati vai insomma e lo vedremo se questo mister Fano sarà in grado di tenere letto no ha letto sulla prima parte bravo però ecco vediamo se questo mister Fano sarà in grado di non calci addosso e diretti nella testa di Outlast io ammette quando c'ho giocato devo giocci con la finestra i diafri che non sono i miei stessi vedi aperti perché mi cavo di morto addosso e niente dietro questo giochiamo giochiamo questo mister Fano questa ci regala ma prima non è ovviamente io se ti viene di fiorita tirano indicazioni e ovviamente anch'io se ci sono degli schizzi che non ti devono ci saranno lo riprenderò anch'io eh si affora buona fortuna buona buona la facciamo anche che c'è un po' altro tasti con me tasti con me buona mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace spiegami una parola di lui da come mi piace all'inizio una sorta di giornalista ovviamente lo mandano a far a scoprire cosa è successo in realtà in realtà se lui che stai avrebbe sul male ombra abbandonato abbandonato perché scopri so quando mi piace a casa lì ha messo a frenar male vedi? si si allora Ho lavorato due settimane come consulente formato nella clinica psichiatrica Murkoff di Mount Cassiman, per infrangere ho ottenuto le cause di disegnatezza, ma non me ne frega un cazzo, per me e quelli fossero andati tutti a fare in culo. Bene, lì dentro succedono delle cose irribili, non riesco a capire, anzi non riesco a credere a meno a metà di quello che ho visto. I dottori parlano della terapia dei sogni, che è andata trapporto, rivelando qualcosa che li aspetta sulla montagna. La gente soffre e quelli dei Murkoff fanno i sogni, devono saperlo tutti. Sono muoio, vieni, sono muoio. Vieni, vedi che bella, accadì la teleamera, proprio. Vai, no? Vai, vai, vedi. Qui ti farà di molto comodo se te le amero. Sì, no? Ragazzi. Eh, vabbè. Ti scicanti ora! Fatti ci vuole vedere. Eh, ora, un attimino, dè, prima volta. Pari il castello di Osso, per adesso entrare in Silvania. Allora, gli obiettivi vengono aggiornati in tutto a cui non da riportare. Capitla, c'è il tasto, quel coso lì? Quale il tasto? Ah, questo, ragazzo. Che contiene anche le monose quindi quelle... Non capito, ma se è Psi giv, va via. Fa, non. Non ho appicciato. Vai, va, vai, 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 vai a casa. Ma lui non ne può accorire. Guarda, lo consiglio alla fine delle pile,.. E se andere, no, in generale, se ne troverà gli, vedi, va. Non mi parecine la fase. un giro d'intorno, non fa qualcosa, anche io ti ho detto, non lo so nemmeno di poco non me lo riuscite se di farlo, però quando c'è qualcosa si bacia, vai c'è sempre qualcosa di tutto dentro hai ragione, forse vedi non c'è un cazzo, non voglio qui uscire vado a casa a fine giorni proviamo ad entrare dentro vado bene, da questo cancellino per aprire con un colpo una porta premi qual'altro per... è premuto? ma va via subito qua ti vado c'è scritto per sollevare la videocamera allora ti è stata giunta al tuo taccoino da riporto per leggerla ma lo zoom e c'è lo... lo zoom c'è? si no, lui salta scazza da che tasto, non so forse... ah eccolo fanno ma diventa dentro questo castello ma prima guarda diventa dentro questo manicomio porca troia ma prima fammi vedere come situazione entriamo entriamo, ma va a due, va a un corre vai va per correre ah finalmente l'entrata principale buongiorno eh, stai fuori vedete qui si può ci trovare? no vai, attenzione qui è chiuso bisogna trovare eh eh, però un'entrata eh, io bene si deve trovare un'entrata no, no è un cofantasma entro, entro, muovi io ci si può entrare? no ma no sai che te voglio dire che se li fa, vai no, aspetta dimmelo vedere no, qui tanto non c'è niente con lo sfondo del camion c'è con lo sfondo del camion c'è si dove dove entravi? vai, dimmelo te, vai si farà così sinistra ma è vista, è la l'unica parte dove ne avevamo visto nemmeno che si si muove, ho detto oh per accovacciarti che è una giochietta per accovacciarti accovacci, si rialzi in quel cerchio attenzione salvata ora, dove dovrai mai andare? e dirlo ma si è la porta infatti, non capisci un cazzo non ero ah, ragione qua la videocamera è accesa può ingrandire e ridurre la visuale eh, quella è questa si, infatti è un po' di sorriso allora, saliamo sopra la scala ora viene giù tutto senti lì poi l'altro dovunque me lo sento, mi do più schizzi ma nonostante c'è un po' di gioco ma ti fa la calda? si schizzi io sono, non so, sono masochista, tipo i film di paura mi dà il bandaggio per stare di merda che stai degli schizzi come questo gioco, ma ce ne ha voluto questo gioco, che ti hanno l'ansia coglione eh, va a far culo oh, la volevi la prima merina con la visuale notturna si, dov'è la visuale notturna? eh, occhio eh e che quando la metti, fammi la mettila eh, dov'è la visuale notturna? no, tu te prima, non me ne ricordi, tanti no, non l'ho messa la visuale notturna è venuta per il tavolo di su ok, eccoci oh, che la fa a lungo oh, non ti ci dà, non ti ci dà a destra stai zianto ma vai diritto la luce si è diretta che rumore lo zoom com'era? l'ho scritto prima cos'è cosi cos'è? la fermo? però non ci ci raccanta chi ha detto entra la porta? si se solo la se la vedessi? ma è la sinistra non la vedi lì? allora ora devo levare no no io la tengo si la sento un pochino vuoi levare la cosa vedi? ma ti ragazzi non è la gioia famiglia sei te che è famiglia non è la stanza mamma mia sto andando se lo schizzano davanti di D eh ma se, sono concentrato te ti caricano addosso vuoi le fagare osso boh proviamo ad andare di qua cosa ci sei successo? cos'era? ma affan... stigione bisogna aprire piano piano la porta Sì, stai attento Che di essere, vanno! Niente, scherzo Stai attraverso la struttura e muoviti da accenirsi Che qualcuno lo fa? Fammi venire piano piano C'è qualcuno lì? Ma guarda lì come fa piano Guarda lì, guarda lì L'acqua non crea ciclo mestruato Eh sì Attenzione Questa si pede Documenti Via, ora si esce Esce o no? Ma però non c'è nessuno Ma io vedo Scusa Ma non si apre la porta Che pezzo di merda Non monta su, guarda Guarda ben drink Corri, corri, volta su corri Corri, X No, hai condotto della reazione Ora dimmi tieni Oh, adesso qui Mamma mia, ma che cazzo Scusa Cosa fai? C'hai la luce? Cosa fai? Vado? Olè E qui dentro è un po' bruttino Scusa No, è proprio qua No, no, tipo Scusa Mamma mia Oi oi dè Ma che cazzo? Ma guarda lì Ciao Si vede proprio una sega Oh Ah ma è piccolo Le hanno uccisi Solo fai Vabbè a me mi portano Ma cosa ti stifo? Mi ascolto Devono ascolti No, ti ha scritto lì Usa i comandi della sicurezza per sbloccare l'ingresso E se mi vede? No, posso dire che non c'è lui Cioè lui non ti cavo Anche se ti tiri su Lui e l'altro dentro non ti cavo E' entrato lì dentro E se c'entro mi cavo Comandi della sicurezza Qui non c'è nulla Divadì Ma io non capisco questi Oti Mi fai tu chi sei lì? Mi fai tu chi sei lì? Ma Zenga lì Zenga avanti Mi stai avanti Fuori eh Fuori eh Ma questa è una bella botta Ma nel viso si vede questo uomo? No E qui dove eri arrivato sei eh? No Fuggi dal manicomio a scegliere a comandi della sicurezza Fuori Ti è? Ti si vuoi arrivato Io l'ho finito il gioco fa Ma non ti ho fatto il sabbataggio Era qui era? E la zona era questa Ma non mi ricordo di più ciò cosa avevo fatto Prima la scelta Sfai Fai dissi i banchi voi eh Che cascava uno Eh? Eh? Come si va? Come si va? Come si va? Si No Forse è qui No 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 Tu devi guardare la porta o a destra o a sinistra A destra A destra Lì 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 destra La 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 piano Vedi? Che cazzo c'ha il vizio di cuore Così da piano Vado là giù dove andrà fuori Dì Va bene Chiudi Ti serve la chiave eh Vedi ti serve la chiave Vedi ti serve la chiave Ah quindi va a cercare di cose Dove è entrato lui? Eh lì Prima non andrei riconoscito Qui? Sì Intanto non si l'apre Vedi come volevi Ii non chiusi Why should we have to pay for it? Oh ma che Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick We're still people Women Choose this E' qui dentro? No ma non devi andare lì Non c'è andare più Ah non ci devo più andare No no vai Vai Qui c'è una porta Bello Fanu Devi chiusi andare indietro Qua in In destra Si vai vai lì Caccia lì C'ho morto mi pare Che cosa c'è Si Ma non lo usate No 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 Cosa 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 Lui Non so se c'ha la chiave Per la civilezza Ma non lo usate Ma ce l'aveva Ma ce l'aveva uno morto La trovi a Cimi Poi Uno di Orni Preciso Cosa Chi l'ora arrivano per i cazzi suonque Ha visto il coso Si Non ti danno nemmeno di azione Allora Andiamo a vedere uno morto Destra e sinistra Mi viene di qua Ah qui c'era Eh qui c'era uno No Prova C'è un cazzo Oh ma guarda Dai Witeness Vedi come si vede ma che si vede lo io Ah bella sta Ma E' un artigianico Che da c'è Proviamo di qua Ti immagino il tappo ci deve essere Tecnici Le pile le vedi le pile Ah vada bene Ti serve La luce inferiore sia trubbata È diventata la batteria pericaricata Ah Non è molto simpatico Il deve andare nel buio Uncchè visto la porta la mia fettura è chiusa Ah io è vero Eh Qui c'è qualcuno che mi sta dando a roba No ma io non mi riorno, no ma vai devi uscire sai dove? qui ce l'avrà lui forse forse ce l'ha lui si no provandola lì, ci può andare a destra si, si era familiare familiare poi queste grandi luci no no ma diventa di vanno no no voglio correre fuori sgatta qui c'è qualcosa ma ti commenti ce l'ho santo? c'è tanti, è magnomio e sbirciare chissà come mai sbirciare vai vai lì è così ma non ti calma mi pare che c'è uno scemo ti guarda vicino guarda la televisione guarda vai non ti calma guarda ma guarda poi rag no non ti calma guarda davanti e guarda cosa c'ho da guardare si sa oddio ma perché sono ridotti ti calma ma quando c'è la luce L'elenco, ma io non... No, non riusci. No, ora devo tornare lì. Sì, vabbè, di tornare alla finezza. Sicurezza. Ma loro sono persone normali? Oh, noide! Ma affan... Ma io non è calcio, no? No, è andata a me. Ma lui non è andata a me. Ma muori? E' un palco. Ma affan... E' un posto di merda. Mi fa da un palco. Mi va, via, via, via. Non puoi paura a me. Sì. Allora, siamo arrivati... Torniamo all'è, alla sicurezza. La sicurezza dov'è? E' a destra. Ma a destra, mamma mia. Ricorda che puoi guardare alle tue spalle tenendo premuto... L2. Alle tue spalle. È il buo. Ma non c'è mai. Ma dovevi fare notte sicurezza, lì. La sicurezza. Vai. Oh, boi, è lì. Tu, tu, tu. Et voilà. Se Dio vuole. Vuole che non la chiudo perché io ho paura. No, è un palco. Che poi dice l'audio piano, sai. Guarda, ti vai, ti vai, ti vai, ti vai, ti vai. Oh, qui? Sicuramente. Sicuramente qui. Oh. Ma beve anche il caffè, lui. Andiamo, andiamo. Oh, è. Chi è? E vai, ti vedete. No. E vai, ti vedete. Fino di più. Tanno. E vi è il generatore del semi interrato. Nasconditi, nasconditi nel coso. Nell'armadietto, fanno, nell'armadietto. Adesso, fissi al tratto, vai. Flemati lì. E guardi, sbircia. Flemati se flemati. Sì, vabbè, la porta. Lui si ti prende non per cazzo. Ehi, vedi, vedi, tu lo cucinamento. C'è no che storia fresca. C'è un copiato. Cucili, non mai avevi. Questa la lana, sai che? Vai, ma, ma, ma. Aspetta, eh. Andiamo a sinistra, sì. Cazzo bué. Cazzo bué. Guarda, rito. Rito al buio, sì. Vai. Posso uscire? Vai. Vabbè, ora scappo. No, sì, 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 sì. È vero tutto buio, devi andare giù, vai a destra subito. Mi serve subito la batteria. Ok. E... Alzi tu. A destra. Oh, devi andare giù. È lì, è lì, è lì, è lì. Ti preoccupa... Ti preoccuparo. Io scappo tanto. Vabbè, fare male, allora. Come dei tasti, non me li ho bovà. Io non ne ho bovà. Ah, bene. Sai il pataggio, però. Non guarda. Se non c'è, non c'è quello, è lì. Ho io, è lì, è lì, è lì. È lì, è lì, è lì. Mi ha strano. Oh, io, che... Che caro è mine. Hai caro. Hai caro. Ah, mio Dio. Ah, mio Dio. Ciao, sono il video. Ti va? Tu vediamo il tuo. Ah, io non ne ho strano. ma che cavolo vai a destra vai apri vai la prima falvola la vedi? sinistra vai la prima pompa sinistra ora vai a destra senti ma le batterie ti fanno vai mi sta spaccato la po chiudi la subito chiudi la subito chiudi la subito chiudi la subito fatti uno in deficiente a me facciamo incazzare e ora si ride e ora si ride vai fatti devi scappare vai 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 che scappo subito eh no qui 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 la batteria qui 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 avanti salta ancora 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 vai ancora salta Vistria, apri Eeeh vai, calcio la vedi in avanti tu è una pila, che ti sanno te lo dio, lui è dietro questa qua, vai vai, ti muovi un po' per inattivare l'Interruptore te li nasconditi come davanti mi nascondo qui No.Te ne biglio occhio Dentro l'armadietto? Si, certo che la sei, qua dentro. Dentro l'armadietto? Si, ma il problema è che te, non sa dove c'è, dov'è lui deciso. Si sta incasinando. Capito, capito, dov'è scappare? Non so cos'è. Oddio! Scappa, scappa, scappa! No, è da lui! Aiuto, stai qui! Oh, è saccredito! No! Chi ti sta incasinando? No! Sono rimasto male, è morto! Ma vaffanculo, ora bisogna iniziare! Sì, ma da qui! Ma stiamo schi... Vabbè, ora però me lo ricordo. No, è la luce! Luce! Oh, bravo! Che bello momento! Era via, mi sembra, ma guarda lì che... Subito a destra, allora tu non riesci finché non hai fatto la prima pappa. Si? Era questa? Si! Non ti sta difeso! Vabbè, vaffanculo! Vabbè, vaffanculo! Vabbè, 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 vabbè! Sei? Vabbè, ma va, va, vabbè, 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 vabbè. Ma enti uno qua, anche gli guardano, vabbè, 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 vabbè. Ora vai, subito dove eri prima e ti lascordi subito l'armadietto, vai, ancora esatto, la memoria, la destra e l'assumino l'armadietto e l'interruttore spezzito. Apri e chiudi la porta, chiudati e chiudi la porta. Chiudi! Vai! L'assumino l'armadietto, altrimenti va la pompa. Vai! Pompare interruttore il cazzo. Sì! Se senti spaccare la porta, vedi qui la sinistra e vai. Aspetta, aspetta. Ma ce n'era un'altra? Aspetta, tu vorrei entrare un amadietto. La stella guai. Bello, però. Bello, insomma. Ma che è stato questo che è vantato insomma. Vengati con la sangue. Fermoni, guarda lui. Non ti cambierà più. No, no, sono finta. Ok, è lì davanti. Mi sapeva il tre? Ma quelle le... Ma fa cosa? Ma un riposo da una vecchia. Ma io non forse ti amo, sai? Non si vuole. Se apri scappi i rovi. Ma che... Se n'è andato in cielo. Ma per cosa? Aspetta, scappo un po' a piccino. Ma lui vado a riuscire. Ma vado a fare un certo. Mi staccano addosso anche lui. Muori, uff. Guarda. Ma vai. Fare Slandy. Esco. Slandy è stato molto visto. Sì, vai, esci. E' destra. Ehm... Tu io non mi è andato. Però è sempre lì, capito? Bircham. C'è qualcosa? C'è qualcosa? Più io le cose c'è andranno c'è. Ah, ma... Ehm... Ehm... Da per favore... No, devi scappare di là. Lo sa che c'è un bullo. Lo sa che sarà un buon dietro. Aspetta, aspetta. Ora scappa. Ehi, capite. 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 Dove fiori, no? Dove, dove, dove? A dritto. A dritto. Io non so cosa c'è a dritto. Sono a merda. Di qua. Vai, vai, vai. No! Qui! No, già da lì! Chiudi. 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 No, la facciamo cura. Nascondi dietro così. Ma... Dove qui? Giù. C'è il tavolo. Ma vai. Se apri, non so se apri. Ma vai. Non so se apri. Se ti apri la porta... No. No. No, mi dai. No, mi dai. Oh, mi dai. Ehi, boh, De. Ti scelgo le mani nell'acqua. De, ma tanto se apri o c'è? De, ma è già quasi scala la pila, no? De. Ora mi apri? No, non ti calma. Ti va a vedere, eh. Aspetta. Perché te lo avresti tornando prima, capito? Te lo spiego ora, mentre si aspetta lui. Vogliamo guardare. C'è una pila a bocca di lato? Sì, vai, alzati. Ancora lì. Hai visto dove c'è le foto porte quando inizi? Sì, sì. Ti ho detto, vai a destra. Prima c'era un murettino. No, ora io... Te va dove eri prima? Vado? Ma io, aspetta, cari la pila. Ma io, come si carla prima? Ti ho arrivato a scazzare i tuoi tasti. No, non ho scazzato. Eh, eh, se te... Vai, vai, possibilità a destra, eh. Ora? Vai, apri, il manovale si scappa. Vai a destra. Vai, vai, vai. Fa me che una volta lì si è a destra. No, io ho idea, eh. Vai, vai, devi saltare, hai vinculato, De. Vai, 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 vai. Ora destra. Ma destra, sai. Vai destra. Vai destra. Vai, destra si devi saliti. Vai destra, destra, destra. Ma sinistra, sinistra. Qui? Vai, 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 vai. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Dove è destra? Sistra. Hai, te sta? Ora, va. Ora, vai. No, dai Sì, deve essere un detto È un piccolo scelto No, scappa, scappa, scappa Oh, è demonzi Allora, c'è una forza Allora, c'è una forza Allora, c'è una forza Allora, c'è una forza Infatti, che non so se ce l'hai fatta Non so se mi rifà tutta Eh, no, ma ce l'hai fatta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Fallo di scappa Dove? Ha detto che non mi rompi più le palle Beh, l'ho capito, ma la palle va Sì Sinistra Ma ora dov'è? No, non c'è La batteria Non c'è La batteria Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Vabbè, non c'è Non c'è Non c'è Ma non me lo ricordo Io non ci sto capendo fino a sera No, aspetta No, 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 ti ritieni indietro Non c'è Ah, dall'altra parte No, no, l'altra batteria Ma indietro Questo è questo che l'hai fatta prima E adesso è passato al muro spaccato E ora devi averle ritrovato Il muro spaccato A me parerà lì Metti la triamera Così meglio Accedila Comodino Vanno usare l'ortuna Vanno indietro Non è che riporti C'è il muro da lì No, ho capito Ah, quello lì Vai, la macchina va Ma è forte Vai Ma dimmi se che lavori Comunque facciamolo Io direi Di concludere Diciamo Il primo episodio Di questa lunga Probabilmente serie Di Outlast con Fanu Qui Quella devi farci si manca poi E' bene Fanu Se no fa niente Ma qui non ti danno nemmeno Inviazioni Poi punto Inviazioni Pule riguardo Vabbè Detto questo Ciao a tutti Ci siete al prossimo episodio Episodio 2 Ciao ciao Ci ho lasciato anche la testa via Te lo dico Ciao Via